Buongiorno a tutti! Buona fine anno, speriamo che questo 2020 se ne vada a quel paese e arriverà un 2021 sicuramente migliore. Io sono qui oggi per farvi vedere un look, non dico da capodanno, non mi piacerebbe neanche chiamarlo look da capodanno perché sappiamo tutti quanti che non andremo a nessun festino, non è che io sarei andata a qualche festino o quant'altro visto che è un bimbo piccolo e tutto, ma sicuramente si prospetta una fine anno un po' particolare visto che c'è il coprifuoco alle 10 di sera, quindi ancora non abbiamo deciso come sviluppare la cosa, se brindare a mezzanotte da soli non vedo alternative, comunque oggi vi faccio vedere come realizzare un eyeliner in glitter sarà un video tutorial old school, quindi un po' più applicate questo prodotto qui, qui forse vi annoierete, non lo so perché? Perché volevo salutarvi prima di tutto, vi volevo augurare una buona fine, un buon inizio anno e niente, avevo voglia di glitter, non mi ci vedo più con i glitter su tutta la palpebra, quindi molto spesso quando utilizzo il glitter lo applico così ci tenevo a dire una cosa, prima che inizia il video tutorial, che molto spesso per applicare i glitter si utilizzano appunto delle colle specifiche è una cosa che ho fatto anche io, infatti ho utilizzato una colla specifica, ma se non ce l'avete, anche il burro di cacao o qualsiasi prodotto che fa attaccare il glitter, va bene, applicatene in poche quantità, ma va bene lo stesso il gloss non lo utilizzerei perché il gloss rimane abbastanza sticky, abbastanza appiccicoso, quindi meglio il burro di cacao glitter, vi consiglio sempre di utilizzare dei glitter specifici per gli occhi, non quelli per nail art o quant'altro perché non sono abbastanza sottili, si vanno a finire negli occhi, succede un macello, vi bruciano, vi fanno male alla fine del video vedete un'altra variante di rossetto, un po' più tra virgolette natalizia io spero che il look vi piaccia, vi do un grosso bacio e ci vediamo l'anno nuovo ho già idratato il contornocchi con questo balsamo di olibida, che è una crema contornocchi molto ricca all'olio d'oliva, adesso vedete che ho lasciato un po' la crema perché volevo farvi vedere dove applicavo la crema questa zona qui soprattutto perché ho avuto una reazione allergica impressionante qualche giorno fa del tipo che ho dovuto prendere un antistaminico e la mia pelle si era rigonfiata, rossata adesso sento sottopelle che è ruvida in questa zona qui in special modo e sto utilizzando una crema che purtroppo non fanno più, fanno un'altra versione è la Tolerance 100 di Bionic, adesso trovate anche la Tolerance 200 che è un pochino più ricca e serve proprio a ripristinare l'epidermide, la utilizzo in queste situazioni un po' più di allergia acuta che ogni tanto mi capitano, a dire la verità era un bel po' che non mi capitava e devo essere sincera che non avevo manco messo la crema quel giorno in cui mi è uscito questo rush cutaneo impressionante per cui non so cosa è successo, probabilmente lo stress, mascherine e quant'altro non contenta, visto che ho questa zona qui estremamente disidratata vado col primer water di Smashbox che è un primer idratante che va a preparare il make-up asciugo un pochettino e adesso utilizzo un primer che mi accompagna in special modo quando mi ritrovo una pelle agé o una pelle che tende ad essere un pochino più secca ed è quello di Fenty Beauty, è un primer che secondo me su una pelle mista che tende ad essere grassa non va assolutamente bene infatti non ne metto tantissimo sulla parte della fronte, naso e mento proprio perché io ho una pelle normalmente mista solo che è una reazione avversa della mia pelle che ho avuto in questi giorni quindi non posso comunque caricarla dopodiché mi fermo qui con l'idratazione e tutto e andrò a truccare gli occhi perché visto che utilizzeremo i glitter non voglio che facciano fallout quindi sotto se casomai mi ritrovo appunto con dei glitter sul contorno occhi posso passare tranquillamente a un dischetto di cotone con un po' di latte detergente un'acqua micellare insomma per rimuoverli e non vado a rovinare quindi la base quindi esattamente old school sono andata a ricreare il makeup che faremo insieme da quest'altra parte e prima di ogni cosa vado con un pizzico di correttore utilizzo questo di Pat McGrath nella colorazione LM8 è un correttore che mi è arrivato poco tempo fa l'ho comprato durante il Black Friday quindi ho pagato veramente poco tutto il kit di correttore, pennellino e cipria praticamente un terzo di quello che l'avrei pagato qui in Italia perché stavano facendo il 30% più il 10% insomma sconti folli devo constatare con voi che è un pochettino asciuttino come correttore quindi potrebbe andar bene anche come base trucco insomma forse per un contorno occhi un po' più secco, disidratato non va tanto bene ora vado dalla palette di Nabla la Side by Side Nude Palette con questo colore qui che è uno champagne opaco e vado praticamente a fissare il correttore di modo che tutti gli ombretti, ombretti poi non ne abbiamo usati tanti che applicherò successivamente non facciano macchia e di tutto, io per realizzare un eyeliner in glitter o semplicemente un eyeliner particolare come questo vado prima di ogni cosa a farmi la forma con l'eyeliner di base spesso utilizzo appunto il colore dei glitter che applicherò successivamente quindi ad esempio in questo caso ho utilizzato un mix di glitter quindi un mix di glitter neri, marroni, eccetera, eccetera ora faccio una riga nera come la realizzo? utilizzo un chromaline di MAC che tra l'altro mi si è anche seccato, vedete? e io lo rendo di nuovo vitale con l'acqua seal di Makeup Forever che è praticamente un seal è un liquido che va a riattivare tutti gli ombretti in crema qua anche Inglot, ci sono tante aziende che lo fanno questo di Makeup Forever è ugualmente buono come tutti gli altri e lo vado a fare questa bella rigona di eyeliner con un pennello fantastico che costa pochissimo di Da Vinci, il 2.0 che quindi è un pennello di belle arti che trovate in cartolibreria metto un pizzico di matita nera dentro sopra a questo punto io ero intenzionata nell'applicare questi glitter neri bellissimi che però in video non rendono minimamente sembra di non aver messo nulla e poi successivamente sono andata con questi altri glitter che sono un grigio comunque non mi soddisfacevano quindi ho addizionato a questi due glitter questi altri di MAC scrivo tutto giù nell'infobox ovviamente che altrimenti non affittiamo più e vado, prima di ogni cosa vado a utilizzare una colla per glitter io ne ho tante forse quella che utilizzo di più per questo scopo è quella di NYX che infatti non so dove ho messo ma utilizzeremo insieme questa di Wimper Noel che è un brand che fa specificamente questo e prodotti per le ciglia per fare tipo la permanente alle ciglia quindi che cosa faccio? vado con la colla prima dove sta tutta la riga e adesso prima che la colla e asciughi vado a tamponare i vari glitter nell'ordine che ho fatto prima ora lasciando stare che mi sono caduti alcuni glitter io non ho fissato appositamente il correttore sotto proprio perché in questo punto qui io vado a ripulire con un pennello piatto angolato questo qui di Yes Up è fantastico per questo scopo ok ora bordo leggermente la rima CR inferiore e mi sfumo questa riga con un pennellino piatto piccolino piccolino prelevo questo marroncino qui e vado un attimino ad accompagnare questa sfumatura sulla rima cigliare inferiore matita nera interna anche perché fa l'occhio un po' più intenso e adesso signore e signore sempre con lo stesso pennellino piccolino vado praticamente a mixare questo a questo colore che è un grigio torto ora alla fine esce molto particolare e lo applico in questa piga palpebbrare in maniera proprio precisa 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 per dare più teridimensionalità all'occhio da questa palettina qui di Dior che è pazzesca secondo me è la più bella palette che ho di Dior particolarissima vado a fare un mix di questi tre illuminanti cioè prendo proprio un po' un po' e li vado ad applicare qui sul dotto lacremale ok? danno questo oro bellissimo mix di tutti e tre veramente sono meravigliosi e mo 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 bro queste ciglia finte di NYX che in realtà io non utilizzo male ciglia finte perché non le tollero non le sopporto però queste qua si riescono a tenere benissimo sulle ciglia senza sentirle e le applico con la colla per ciglia finte duo nera fate attenzione a soffiare se avete glitter aperti sul banco mascara uso questo di Charlotte Tilbury perché ha il pennellino sottile riesco a prenderle tutte dopo aver repulito un po' di glitterini qui sulla base sono andata a scegliere il fondotinta e ho optato di provare con voi l'Hydra Booster Foundation di RV Lab che ha un fondotinta idratante sempre per la situazione che abbiamo noi qui sul viso ultimamente sono molto curiosa di provarlo questo è l'applicatore non fate caso ho la mia mano zuzzissima lo applicherò con un pennello molto preciso piccolino la colorazione che ho io è la 83 sa di vaniglia allora ho deciso di applicarlo con questo pennello perché l'applicazione è più leggera secondo me come io non posso utilizzare dei fondotinta asciutti secchi per via sempre di questa leggera dermatite che mi è venuta questa leggera allergia dermatite allergiche non sono nemmeno io ma sta passando quindi non posso utilizzare un buffer quindi un pennello a setola di densa fitta bello uniforme non appisantisce bisogna vedere solo la durata com'è ricordatevi sempre di passare vicino alle orecchie il colore è perfetto ok fisso tutto con la stessa cipria quindi della stessa linea quindi andiamo a dare questo tocco numero 12 faccio un leggero contouring con questa terra media intermedia di Kevin con pronunciato male probabilmente non mi entrerà mai nel cerulletto e vado praticamente con questo pennello fantastico che è il 150 di Make Up For Ever dalle tempie fino al centro del viso visto che c'ho capelli tirati voglio proprio saltare contouring quindi ci do dentro e poi vado con il blush è un blush molto leggero in realtà utilizzeremo un super illuminante che adoro di Mulac è un illuminante in drop on che è pazzesco la colorazione che ho io è la rose per le sopracciglia vado con questa qui di Urban Decay che in realtà vedete che io ho il tattoo di le sopracciglia super naturale perché le ho l'ho fatto a pelo quando faccio un trucco un po' più strong le ridefinisco un pochettino perché mi piace proprio l'effetto un po' più definito quindi meno naturale sulle labbra parliamoci chiaro è un look intenso io mi immaginavo sicuramente un rossetto naturale perché ultimamente non sono più abituata ai rossetti neon però facciamo la doppia applicazione proverò prima il rossetto liquido naturale che per me è un must have è un prodotto unico a me dura tanto sto parlando di Ancoufet di Fenty Beauty che mi piace tantissimo sulle mie labbra vorrei fosse il colore delle mie labbra poi utilizzeremo un rossetto rosso che ho nuovo di Dior sempre liquido proviamo prima Ancoufet mi dite caso mai quale rossetto preferite tra i due vi do un bacio grande ci vediamo con l'anno nuovo sicuramente cerco di registrare appunto il video con i miei top flop del 2020 e ci vediamo al prossimo video ciao